L'azione di contrasto e prevenzione dei reati nel territorio è la linea maestra nella quotidiana attività della Polizia di Stato di Caltanissetta. Nel corso dell'attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio della provincia la Polizia ha denunciato all'autorità giudiziaria 33 persone, seguito 18 perquisizioni, e sequestrato cocaina e cannabinoidi. Il dato da evidenziare è il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ben 7. Inoltre sono 33 le persone denunciate all'autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia nissena, 8 per reati contro il patrimonio, furto e ricettazione, 5 per detenzione di armi, 2 per guida sotto l'influenza di alcol e stupefacenti, 3 per abbandono di animali nel fondo altrui, 2 minorenni per violenza privata e 6 per altri reati, evasione, immigrazione clandestina e minacce. 5 persone sono state segnalate alla locale prefettura poiché trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Grazie. Grazie.